buongiorno al dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione oggi parleremo di chi ha paura degli animali di qualsiasi razza dimensione special ora questa paura degli animali che può essere la paura del ragno della zanzara del 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 cagnolino del gattino eccetera eccetera può essere eliminata definitivamente se tu utilizzi l'ipnosi vera e professionale per cui ti invito a sederti presso un professionista della tua zona in italia all'estero e anche a fare delle sessioni online di ipnosi perché no io sono un esperto di ipnosi online ipnotizzo da qualsiasi parte del mondo con una connessione internet un app che possa farti vedere la persona davanti e perché ripeto da circa dici anni prodizzo online e questo un grande vantaggio perché ti fa stare comodamente a casa tua non ti fa spostare è un po come quando ricevi i pacchi da amazon e quindi chi ha paura degli animali può sedersi oppresso un professionista della propria zona risolvere il problema oppure scrivermi un'email a ipnologi associati che ho c'è la libro punti e io risponderò gratuitamente compatibilmente con gli impegni con i miei tempi perché sono spesso all'estero è gratis per dare migliori consigli su come utilizzare anche la propria ipnosi ok senza spostarsi da casa visita la mia fan page su facebook ipnosi autipnosi del dottor claudio serracino ha visto il mio sito internet www.ipnologi associati.com iscriviti a questo canale youtube benessere l'ipnosi soluzione dicesse il dottor credito serracino e faccia condividi con amici e parenti perché può essere quel quid che elimina il problema della paura degli animali e aggiungo il mio metodo ti consente anche di utilizzare l'ipnosi vera e professionale anche a persona cari a bambini figli che non vogliono essere aiutati e anche con la tua voce perché posso anche insegnarti questo che non credere ma devi soltanto fare e visita anche i profili instagram e twitter benessere i propri soluzioni dicesse il dottor claudio serracino al prossimo video un bacio un abbraccio